Io le persone ormai le giudico oltre da quelle che dicono, dallo sguardo. Ieri c'è stato un messaggio, per chi crede, della Madonna di Meggiugori, che invitava a giudicare le persone dallo sguardo. Giudicare i fatti, da quello che non si dice, ma è lo sguardo di Conte, è uno sguardo di una persona che ha paura, che non ha la coscienza pulita e che scappa. Per chi crede, non pretendo che uno creda.